Quarta giornata Socher Cup, si affrontano il Real Santiago contro la cremeria Pignalosa. Arbitra l'incontro, Gennaro Buonocore. Adesso il saluto al pubblico a corso fin qui, per seguire la squadra del cuore. Sette di mano. Tutto pronto per l'inizio di questo big match. Ci vediamo a Pia Lights. Ciao ragazzi. Inizio il primo tempo tra Real Santiago e cremeria Pignalosa. Questi ultimi sono in svantaggio per 1-0. Gol di Recano. Adesso in attacco Real Santiago. Tutto da capo, dal portiere. Verso Villarreal. Villarreal in lancio verso... Sarà rimesso laterale per la cremeria Pignalosa. Capitano. Bello lo stop di spalla dell'attaccante della cremeria. Adesso prova il numero 10 col sinistro. Il attivo viene murato. Contropiede. Villarreal. Villarreal 3 contro 2. Villarreal si accentra. Villarreal prova a destra. Anzi verso Suma. Suma. Il destro. Ancora. Bello. Il tentativo di Suma è altrettanto bello. La prima risposta del portiere. Poi però Suma non è riuscito a tenere la palla bassa. Che si è impennata. Ben oltre sopra la traversa. Adesso la verticalizzazione provarà. Tentata dal difensore della cremeria. Sbagliata. Suma non è riuscito. Suma non è riuscito a tenere la cremeria. Bisogno non è riuscito a tenere la cremeria. Un'altra cosa che si è impreva. Suma non è riuscito a tenere la cremeria. Suma non è riuscito a tenere la cremeria. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.